La tua tipa è una cagna vuole un guinzaglio Ok Tu sei leone il cane e i fifoni Giro una canna d'erba grossa come un filone Ma quella Quella spara eh Spara Spara un sacco di cose Con questa bocca Ciao ragazzi I'm Ryuji Mi chiamo Ryuji Siete benvenuti nel mio canale Io vi presento con un altro video Reazione Richiesta da voi Questo video qui si chiama Cavalini Featuring Sfera e basta Dag Polo Gang Ne guardiamo e vediamo di che si tratta E non vi dimenticate Di iscrivervi Iscrivervi A mio canale E cliccare Nella campanellina Per ricevere altre video reazione Richieste da voi E condividete E mettete mi piace Così andiamo avanti Quindi guardiamo di che si tratta Dag Polo Gang 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 No no Spacciatori negli androni Spirin fuori dai balconi Non voglio più avere problemi Quindi stronzo da mimone La tua bitch mi chiama Oney Si mi chiama tutti i giorni Ora che ho un sacco di cloni E non le fonse nei pantaloni Cavallini sulla mia maglietta Cavallini ragazzini qua crescono in fretta I soldi per il pane da quella panetta Rispetto solamente per chi ti rispetta Mi trovi in giro solo solo con la squad Fumiamo questi chiacchieroni dentro al bong In strada prima che dentro non pianto Entriamo a volto coperto e prendiamo tutto quanto A me Il mio parere è questo è buono Ma non come Cioè recentemente Il suo video recentemente che ho sentito Questo è un po' appena iniziato Quindi però è buono Anche lì Questa spaca A me mi piace Assolutamente Che ne pensate? Lasciate un commento Ditemi cosa ne pensate voi Ecco E mangio polla al curry Troia non mangio sushi Mi piacciono fendi e buchi Ferragamo e barberi Incassiamo come i cassieri Sognano montagne di soldi E i vari modi per spendere Giochi con la gang Mio fratello alza un cannone Hai problemi di pressione Non ti si alza il cannone La tua tipa è una cagna Vuole un guinzaglio Ok Tu sei leone il cane fifo Oh 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 Ma quella Quella spara Spara Un sacco di cose Con questa bocca Di pane Sto pensando ad alzare Il mio pane Baguette, pan carreff Rosette e ciabatte Lei non vuole portere i miei amici Allora può andarsene Il bc37 Vuoi beccarci ai rioni Su Il bc37 In giro Come i tassisti Come i tassisti Chi sono questi stronzi Giuro non li ho mai visti E se non parli Di soldi Scusate non vi ho sentiti Scusate non vi ho mai visto Eh Ok Ok Lo vieni a fumarli meno Mmm Ok 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 Ah, ma Cosa vuol dire? Non è impossibile Cosa vuol dire? Lui sa cantare Il rap Sa quello che fa Esattamente sa quello che fa Assolutamente Quella Spaka 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 Sa quello che fa Assolutamente E' bravo E' bravo A me A me mi piace questo Che ne pensate? Ti piace? E non ti piace? Lasciate un commento Ditemi cosa ne pensate Di questa Musica qui Questo rap qui Comunque Non vi dimenticate Non vi dimenticate Di iscrivervi C'è un sacco di reazioni Che arrivano Video reazioni Un sacco che arrivano Quindi Quando scrivi Schiacciate il campanellino Se no Non ricevete Quando Cari con video E Iscrivetevi anche Il mio canale principale Quello più grande Dei altri due canali Quindi Ce ne ho tre Che sono tutte Ci sono dei video Che spaccano Quindi Perciò Andateci dentro Andateci dentro E Condividete E lasciate un commento Mettete il gran mi piace E poi andiamo avanti Ciao ragazzi